Guardate questo dato uscito oggi. La produzione industriale nel nostro paese a maggio è scesa e già era scesa il mese precedente. Direttore Molinari, le nubi di... Ah no, scusate, andiamo prima dal Davide Polito che con il suo sondaggio e analisi ha fatto un esame di quelle che sono le esigenze in questo momento e le criticità delle imprese perché questo dato riguarda soprattutto loro. Ci spieghi un po' meglio. Beh, guardi, questo dato non deriva dai social network, qui parliamo di un dato più economico, andiamo ad analizzare principalmente i dati delle principali camere di commercio e i dati che derivano dai sistemi di segnalazione finanziaria e una survey fatta attraverso il dirigente.com su manager e imprenditori. Le aziende sono in difficoltà, gran parte per l'aumento dell'energia e delle materie prime. Non è una novità ma ora inizia a impattare un po' tutte le categorie, anche i piccoli esercizi e i ristoranti. Quest'altra informazione è importante, 15.000 sono a rischio di fallimento entro il 2022 e teniamo presente per dare la grandezza al numero che normalmente la media in Italia è di 8.000 imprese l'anno. C'è un altro dato che abbiamo ricavato e che deriva un po' dalle aziende che hanno avuto una segnalazione economica nei sistemi tipo CRIF, Expedia. 146.000 sono le imprese entrate in difficoltà, in criticità finanziaria in questo ultimo semestre, il che vuol dire un indotto di circa 500.000 persone. Grazie Davide Eppolito per essere stato con noi con queste analisi. Adesso abbiamo gli elementi da fornire.